Cari lettori la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo che tratta di un argomento di grande rilevanza sociale, il matrimonio come strumento di controllo sociale e l'impatto che può avere sulla vita delle persone coinvolte. Leggere questo libro può offrire una prospettiva interessante e approfondita sul tema delle relazioni interpersonali, dell'importanza dell'autenticità e del diritto di scegliere il proprio destino. I lettori avranno modo di esaminare le norme sociali esistenti e a valutare criticamente le proprie convinzioni sulla libertà individuale e sull'amore autentico. La trama del libro Verità a metà di Paolo Mirafiori, edito da Rossini è la seguente. Esiste un metodo raffinato per omettere una verità, che da sempre ha quietato la coscienza di tanti ingannatori. Consiste nell'esprimere una verità a metà con il cuore, senza mai rendere colpevole la lingua. Questo è stato il matrimonio in passato, quando determinava la posizione sociale della coppia. L'unione poteva portarla a una caduta oppure verso un'ascesa. Pertanto, la scelta del coniuge rappresentava un momento chiave, poché definiva la tessitura delle reti sociali e il mantenimento dell'ordine. Ma cosa può succedere quando un padre non pensa al benessere della propria figlia e scopre che questa si è innamorata senza il suo permesso? Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.